Mentre diceva questo, una donna della folla alzò la voce e gli disse Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato Ma egli disse, Beati piuttosto a coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano Così, dal Vangelo di Luca, il capitolo è l'undicesimo e i versetti sono il ventisettesimo al ventottesimo